Ehi Alex, forse dovremmo conoscersi. Così sei l'uomo di Shiva a Las Vegas. Raggiungi le coordinate del GPS e capirai tutto. Vuoi incontrarmi o no? Non avrai altre occasioni per farlo. Ehi, non so nemmeno chi sei. Allora muoviti, così potremo conoscerci. Allora muoviti, così potremo. Ecco il patto. Mi unisco alla tua cruz e mi aiuti a trovare mia sorella. Ok, ma adesso basta con questa musica. Ciao Alex, sono Roxor. Ma puoi chiamarmi Roxen? Cosa deve fare una ragazza per avere un passaggio? Come posso dire? Chi diavolo sei, di preciso? Mi chiamo Roxen e sono una donzella digitale alla ricerca del principe azzurro. Che dolce. E quindi? Calma, chi sono non ha importanza. È importante quello che posso fare per te, quindi sbrigati. Parlami di tua sorella. Si chiama Daria. È sempre stata una ribella. Adesso è entrata nel 510 ed è scomparsa. Ho promesso a nostra madre che l'avrei trovata. Sei una specie di spia, vero? Non hai fatto uno scherzo da hacker, niente male. No, sono una merda qualsiasi che cerca di tenere d'occhio come può la sorella. Entrare nei database della polizia rende furbi. Perché dovrei fidarmi? Perché Alex e Taylor, se stessi mentendo, allora tu, Zoe, Harry e Alita saresti già in grossi guai. Le cose funzioneranno solo se ti pigi. Come Jullo. Come Jullo. Oh Sembra il posto giusto Ecco i nuovi vicini Wow, che posto strano Siediti Ho parecchie informazioni da darti Non puoi comprare i Mountain States Quando i 510 si sono espansi La polizia ha segnalato un aumento di auto elaborate Tutte le auto fermate trafficavano qualcosa Usano i soldi confiscati per comprare attrezzature migliori Sono incorruttibili e diventano sempre più forti I 510 sono nei guai Ogni dollaro della gang passa per quest'area Auto che vanno a sud e merci contrabandate che vanno a nord La rete stradale è in la gola dei 510 E la polizia li sta strangolando Shiv non riesce a risolvere il problema Ma noi possiamo Trovo un blocco Lo aggiro e mi creo una nuova strada Gli sbiri bloccano le strade E noi non le useremo Se ripristiniamo il flusso di soldi nei Mountain States Shiv ti farà V6 Uno dei suoi Ed è quello che vogliamo Alex mi piace la tua amica E pare sappia molte cose su di te, me e sull'operazione Già, lei dov'è? Nel box riparazioni col suo computer Parliamoci chiaro Se Coburn si accorge anche solo per un attimo che lo controlliamo L'operazione è compromessa Non voglio che un hacker svitata intralci i piani dell'FBI Zoe, sai che ci sta ascoltando, vero? Già Ehi Zoe Figlia di... Tu da me, subito Ehi Zoe Grazie a tutti. 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 Ok, gran finale, Alex. Spingila al massimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehi, è bello vedere come guida un V4. Grazie a tutti. Questa gente. Questa gente ci serve, Alex. Grazie a tutti. 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 Manca a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.